Oggi Nonna Picetto ti mostra come fare le frittelle di rosa marina, una ricetta tipica calabrese. Con i termini rosa marina, neonata, sardella o nunnata, in Calabria vengono identificati i bianchetti, novellame di alici e sarde, la cui pesca ha molte restrizioni per salvaguardare la specie. Come prima cosa devi preparare la pastella, ne sto facendo doppie dose perché oltre alle frittelle con la rosa marina farò le frittelle con i gamberetti. Questo è un video breve ma troverai tutti i dettagli, dosi, ricetta spiegata passo dopo passo e video completo sul blog ricettario di Nonna Picetto che si chiama Il Blog di Picetto. Otterrai delle frittelle croccanti fuori e morbide dentro, le puoi utilizzare tra gli alipasti caldi e freddi come secondo per uno sfizioso aperitivo o apericena e anche come si fa con i cicchetti veneziani e le tapas spagnole composte da tanti bocconcini utili per accompagnare un buon vino o bollicine. Ed ora come sempre un grandioso saluto da Nonna Picetto.